Venerdì 17 ottobre, all'interno di Artigian Expo, svoltasi al Parco San Giuliano di Mestre, si è tenuto il seminario di confartigianato dal titolo Dal Made In alla certificazione del prodotto. Da anni, Confartigianato è fortemente impegnata sul fronte della valorizzazione, salvaguardia e promozione del veramente fatto in Italia. L'obiettivo di tal impegno è una garanzia di trasparenza e chiarezza sia per il produttore che per il consumatore. Il logo 100% Made In Italy è stato creato da Confartigianato Marche, che lo ha poi regalato a Confartigianato Nazionale per dare visibilità alla legge che, grazie all'azione di Lobby del Veneto, ha istituito l'interamente prodotto in Italia. Oggi, questo logo 100% Made In Italy è utilizzato da imprenditori di vari settori della produzione artigiana di alcune regioni. Paolo Capponi, responsabile della divisione Marketing e Export della Confartigianato Macerata. Paolo Capponi, il 100% Made In Italy come fattore di sviluppo, cioè la vostra associazione ha puntato su una legge e sta facendo animazione economica sul territorio con grandi risultati e con buoni successi. Ci può raccontare in sintesi il nocciolo del progetto? Nasce tutto dai nostri artigiani, che chiedevano con forza una tutela per quanto riguarda il Made In. Come noi tutti sappiamo, il Made In, tutelato da un regolamento CE, il numero 450, permette di etichettare Made In, quindi Made In Italy, anche alle produzioni fatte parzialmente all'estero. I nostri artigiani, che fanno tutto in Italia, quindi volevano essere tutelati. Nasce così nel 2009, dopo nove anni di battaglia, la legge 166 del 2009, che all'articolo 16 contempla il 100% italiano. Cosa significa? Che le aziende possono etichettare le proprie produzioni con il 100% Made In Italy solo nel caso in cui tutta la realizzazione del prodotto è fatta nel territorio italiano. molto bene, perché le imprese finalmente si accreditano e danno al consumatore il vero Made In Italy, quindi quello che è fatto totalmente in Italia. Ma la Confartigianato, che ha puntato su questa legge e ha fatto un marchio anche per identificare le imprese, come lo sfrutta poi realmente nell'animazione economica? In coming? Li avete raccolto in un consorzio? Cosa avete fatto? Allora, l'intuizione è stata quella di accomunare alla legge un logo. Il logo è il 100% Made In Italy, tricolore, 1-0-0 in tricolore. Cosa è successo? Che abbiamo creato innanzitutto un sito perché soprattutto all'estero ci chiedevano quali erano le imprese che realizzano i prodotti interamente italiani a norma di legge. Quindi c'è un sito dove all'interno sono collocate tutte le aziende divise per settore merceologico che producono interamente in Italia. Non c'è un consorzio ma è un'aggregazione di imprese sotto il logo 100%. Sono solamente nelle marche più di 500 le imprese aderenti al progetto e ora stiamo ramificandoci in tutta Italia. Facciamo promozione sulle fiere più importanti sia in Italia che all'estero, nella moda e non solo, anche per quanto riguarda i mobili arredo o per quanto riguarda l'agroalimentare. Organizziamo incoming, quindi ospitiamo Bayer Esteri a far vedere produzioni esclusivamente 100% Made In Italy, quindi sotto la nostra effigie che è poi un'effigie di confartigenato. Il marchio è registrato presso il Ministero dei Beni Culturali, quindi è di confartigenato e è a disposizione di tutte le associazioni di confartigenato. E qui va un applauso anche al Veneto che ci ospita oggi perché le Marche e il Veneto sono state le due associazioni di confartigenato che hanno puntato fortemente su questa legge e che grazie alle loro forze politiche hanno fatto in modo che nel 2009 finalmente questa legge fosse stata applicata. Gianluca Fascina, Presidente della Federazione della Moda del Veneto di confartigenato. Presidente, il logo 100% Made In Italy si appoggia a una legge e sappiamo che è positivo, però in Veneto la confartigenato insieme al tavolo della moda, quindi con tutte le altre organizzazioni della filiera, sta pensando di abbinarlo anche a un ente certificatore esterno. Ci spieghi un attimo qual è l'idea del progetto? L'idea del progetto è molto semplice. Si tratta di, tramite il TF, che è un ente certificatore collegato con le Camere di Commercio, dare un'etichetta parlante ai capi prodotti esclusivamente in Italia con un marchio 100% Made In Italy che certifichi veramente che il prodotto è italiano, in modo tale che chi li acquista abbia la certezza che non stia comprando un prodotto cinese, ma un prodotto veramente italiano. Le marche sono molto avanti rispetto al Veneto anche sulla promozione del logo 100% Made In Italy, però il Veneto avrebbe delle potenzialità, sono molte le imprese artigiane che avrebbero bisogno di differenziarsi con questo logo, vero? Beh, sicuramente anche perché nel Veneto, l'unico caso in Italia, c'è questo tavolo della moda formato da confartigianato, CNA, industriali e commercianti che sta lavorando appunto per portare avanti questo progetto che è la salvezza del Made In Italy e di tanti posti di lavoro dei nostri collaboratori e delle nostre imprese stesse. Giuseppe Mazzarella, Presidente della Federazione Moda di Confartigianato Nazionale, Vice Presidente dell'ICE e uno di coloro che ha portato a realizzazione la legge 166 2009 perché era già allora Presidente Nazionale col contributo di tutti. Però lei ha una caratteristica particolare, lei è un produttore di scarpe e il logo 100% Made In Italy lo sta usando nel mondo. Ci dice la sua esperienza da imprenditore su questo? Certo, la nostra azienda vive da più di 50 anni, da mio nonno a mio babbo e poi arrivando a me. Sicuramente nel momento in cui il Made In Italy nel mondo sembrava essere il marchio che voleva mandare il messaggio ai clienti estero che quel prodotto era interamente fatto in Italia a un certo punto non valeva più. Perché? Perché il Made In Italy si può fare anche facendo una buona parte dei prodotti all'estero poi riportandoli in Italia e marcandoli Made In Italy. Ecco che allora il 100% Made In Italy ci dà la possibilità di poter dare una garanzia indelebile, inequivocabile ai nostri clienti esteri. E vi dirò che noi che esportiamo quasi il 100% dei nostri prodotti in parecchie parti del mondo quasi per dire anche in Nuova Zelanda piuttosto che in Australia, negli Stati Uniti, in Cina, in Giappone e via dicendo. Questa cosa qua, gli stranieri, l'hanno vista come una grossa garanzia che farà differenza tra chi marca il Made In Italy e il 100% Made In Italy. E concludo dicendo che chi usa il Made In Italy in molti casi lo fa in maniera non fallace. Però è importante che nel futuro questo 100% Made In Italy venga utilizzato da tutti quelli che fanno veramente e interamente il prodotto solo in Italia.